Sto scoprendo questa città che è meravigliosa. A cominciare da quest'aula, l'aula volta dell'Università di Padia, un'università storica, mi sento onorata di poter parlare di temi importanti come libertà o transessualità, con la libertà di parlare di questi temi. Non bisogna avere paura, bisogna parlarne perché il migliore antidoto contro l'omofobia, la transfobia e l'ignoranza è parlare. Sto scoprendo questa città che è meravigliosa. A cominciare da quest'aula, l'aula volta dell'Università di Padia, un'università storica, mi sento onorata di poter parlare di temi importanti come libertà, corpo e transessualità, con la libertà di parlare di questi temi. Non bisogna avere paura, bisogna parlarne perché il migliore antidoto contro l'omofobia, la transfobia e l'ignoranza è parlare.